In questa puntata residenze fittizie per tutelare le donne vittime di violenza. Parco della Maremma si ha l'adozione del piano integrato. Toscana Gospel Festival nel segno di Martin Luther King Presepi in mostra a Sansepolcro Il Consiglio regionale della Toscana ha votato all'unanimità la proposta del Movimento 5 Stelle per istituire le residenze fittizie in tutto il territorio nazionale. Questa iniziativa mira a proteggere la sicurezza delle donne vittime di violenza o potenzialmente a rischio e serve ad impedire agli stalker di risalire alla loro reale residenza attraverso l'accesso a documenti relativi a ambiti assistenziali, fiscali, educativi, elettorali o sanitari. La tutela e la difesa delle donne vittime di ogni forma di violenza è un tema che ogni giorno merita la nostra attenzione perché all'interno di quelle convenzioni e di quei protocolli che fanno sì che si possano tutelare appunto le vittime è necessario fare attenzione a ogni singolo tassello e ce n'è uno che può essere messo in campo dalle amministrazioni con questo strumento amministrativo che è appunto la residenza fittizia che altro non è che un modo per permettere a queste persone di non essere identificate, localizzate da quelli che sono stati o che sono i loro aggressori. Per fare questo abbiamo chiesto che il Parlamento nazionale si adoperi perché riesca a fare una normativa a quadro che metta in condizione tutti i comuni di poter costituire appunto questo che è un indirizzo fittizio appunto non esistente ma che sia in grado comunque di essere utilizzato dalla vittima, dalle donne per poter adempiere a tutte le pratiche amministrative e burocratiche che necessitano appunto di un indirizzo ma che non sia riconoscibile. Questo lo dobbiamo all'interno di questo percorso che anche la Regione Toscana ha fortemente voluto per cercare di far sì che la difesa delle donne, delle vittime sia sempre più efficace e più effettiva e questo deve avvenire a tutti i livelli istituzionali e soprattutto con la coesione di tutte le forze politiche perché questa è una battaglia di civiltà. Ma abbiamo fatto di più perché abbiamo redatto un testo condiviso dove si dà una maggiore forza all'atto ovvero impegnare il Parlamento a legiferare a livello nazionale nell'istituire un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di violenza che magari hanno trovato il coraggio di denunciare e che sono magari in case di fuso piuttosto che in altri luoghi protette. Però sappiamo che è facile ottenere gli indirizzi se andiamo in qualunque anagrafe per cui creare un indirizzo fittizio consente loro di avere una maggiore tutela, una maggiore protezione e di essere più difficilmente rintracciabili. Per cui insomma sono anche soddisfatta perché ha trovato l'unanimità dell'intero Consiglio regionale ed è un altro piccolo passo, un altro piccolo tassello nella rete di protezione appunto per le donne vittime di violenza. Siamo in un periodo in cui siamo particolarmente scossi da fatti brutali e sanguinosi che non si fermano però quelli di cui parliamo più spesso sono appunto i femminicidi che è l'estremità assoluta di quello che accade. Ci sono tante donne che subiscono quotidianamente violenza a tutti i livelli e in più occasioni e quindi dar tutela anche a loro prima di arrivare ad una degenerazione del problema credo sia di assoluta importanza. Questa è un'esperienza che in alcune realtà della Toscana già esiste, ho avuto modo di affrontare anche in maniera molto silenziosa, diciamo dietro un'apparente normalità, alcune situazioni simili anche nel territorio toscano, sono delle esperienze diffuse che già esistono. Sono evidente che le donne che subiscono la violenza devono avere tutta una serie di garanzie e di tutele nel momento in cui vanno a denunciare una violenza subita, anche una presunta violenza che potrebbe verificarsi e come tale hanno necessità di una copertura, hanno necessità di un'abitazione che le consente di fare una vita anche in un anonimato ma in sicurezza e nel contempo ricordo anche le iniziative che avevamo fatto in passato rispetto anche a delle opportunità di lavoro che si devono determinare non soltanto nella cooperazione sociale ma anche nel sistema pubblico, quindi tutta una serie di misure che devono accompagnare quello che questa settimana ci stiamo dicendo ma che poi necessita di atti e misure concrete. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato l'adozione del piano integrato per il Parco regionale della Maremma il provvedimento è passato con 18 voti a favore del Partito Democratico e Italia Viva e l'astenzione di Lega Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Sul piano del Parco della Maremma intanto è importante dire, mi fa piacere farlo, che la Quarta Commissione ha intrapreso un percorso di sedute sul posto, come è successo anche per quanto riguarda il Parco della Maremma, di valutazione e votazione degli atti che ritengo molto positivo perché anche in questo caso qui abbiamo colto quanto tutti i soggetti che in qualche modo partecipano della vita del Parco della Maremma ne determinano le decisioni, tutti gli enti comunali e provinciali che ovviamente ne fanno parte hanno una comunità di intenti piuttosto marcata che va di pari passo anche con una capacità in termini di bilancio che spesso si è distinta rispetto agli altri parchi di cui di solito siamo chiamati a discutere, penso alle Alpi Apuane e penso ovviamente al Parco Migliarino San Rossore. Nel caso del Parco della Maremma siamo parecchi passi più avanti e quindi anche il nostro approccio è un approccio positivo. Abbiamo però espresso un voto di astenzione perché essendo di fronte a un atto che al momento è esclusivamente adottato ma avrà poi la fase delle osservazioni e poi quella dell'approvazione definitiva ci è sembrato più corretto attendere questo, almeno l'ulteriore passaggio delle osservazioni per capire bene se quelle che erano le nostre valutazioni sono effettivamente corrette o dovessero essere ulteriormente modificate per strada. Sì, oggi in aula abbiamo votato all'adozione per il piano regionale per l'enteparco della Maremma un atto importante che è stato licenziato dalla quarta commissione ed è stato appunto portato in aula tra l'altro la quarta commissione grazie al lavoro del suo presidente, la consigliera Lucia De Robertis è anche andata personalmente al parco della Maremma, diciamo ha preso contatti con quelli che sono il presidente, il consiglio direttivo ma anche le istituzioni comuni che insistono. Il piano regionale di questo enteparco è un lavoro che ha richiesto diversi anni, è cominciato a giugno del 2019 e si è concluso praticamente ora, anche se ora si aprono i 60 giorni per quelle che sono le osservazioni che poi la commissione dovrà in qualche modo verificare e diciamo che ha una sezione che è una sezione di pianificazione e una sezione che è una sezione programmatrice. Nella pianificazione l'enteparco insiste su una vastità territoriale piuttosto importante, sono quasi 9.000 ettari di terreno, di territorio e insiste su tre comuni cioè Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello. Quindi ovviamente sono tante diciamo le istituzioni le persone che sono interessate a questo piano. Ovviamente quello che si propone il piano intanto è di tutelare diciamo l'ambiente naturale che c'è, tant'è vero che ci sono delle aree destinate proprio a rimanere così allo stato naturale e altre invece che ci sono imprese all'interno di queste, vengono fatte anche nella programmazione si pensa anche di sviluppare quello che è questa cosa, naturalmente sempre in maniera sostenibile in maniera che si, diciamo, l'attività umana e la natura in qualche modo si debbano sintonizzare senza che l'una prevalga sull'altra. Tra l'altro l'enteparco è anche un'associazione che ha un bilancio positivo ha un 25% di entrate che arrivano dalle sue attività, vi si fa trekking, si persa anche di fare c'è una limitazione nell'entrata delle macchine sempre per la tutela dell'ambiente ovviamente ma c'è anche l'idea di fare un percorso in bicicletta aiutando quello che è il turismo lento. Ovviamente il territorio dell'Alberese è un territorio conosciuto per essere una, diciamo, di quei gioielli naturalistici proprio della regione toscana. Per quanto riguarda il Parco della Maremma si tratta dell'adozione di un importante strumento di programmazione e pianificazione di quell'ente che è stato concertato con gli enti locali cioè con i comuni come abbiamo potuto verificare svolgendo i lavori della Quarta Commissione direttamente presso la sede del Parco della Maremma diverse settimane fa. Ovviamente si tratta di un'adozione, ci sono alcuni elementi che migliorano e probabilmente andranno a qualificare la promozione e la capacità del Parco di produrre reddito. Ci sono una serie di interventi sulle infrastrutture, ci sarà comunque il tempo per i cittadini, per le imprese e per le associazioni per fare le osservazioni e quindi noi esprimiamo un parere, diciamo, esprimeremo un voto di astensione in attesa naturalmente di capire anche l'atteggiamento del territorio su questo strumento di governo del territorio. Il Festival Gospel che si aprirà il 15 dicembre a Montalcino nella provincia di Siene si chiuderà il 28 dicembre a Cortona rende omaggio a Martin Luther King. Il Toscana Gospel Festival è un'iniziativa musicale che coinvolge tutta la Toscana ma con mio particolare orgoglio è nata 27 anni fa ad Arezzo ed ora invece è diventata una manifestazione, un sistema di concerti che coinvolge appunto tutto il territorio regionale. 27 non è un traguardo banale, dal 1996 che siamo in giro per la Toscana abbiamo portato oltre 3.000 artisti, abbiamo fatto centinaia di concerti decine di migliaia di persone seguono. Quest'anno la 27 edizione vede coinvolte 12 città della Toscana di tante province da Arezzo ad Agliana, Massacozzile, Montalcino, Montepulciano, Cortona San Giovanni Valdarno, Torrita di Siena sono tante piccole e grandi città che ci ospitano in bellissimi teatri e chiese la filosofia del nostro festival è sempre quella di portare gruppi dagli Stati Uniti quindi di favorire la conoscenza di questa profonda tradizione degli Stati Uniti che è la musica gospel afroamericana siamo contenti perché il sostegno della regione e del Consolato degli Stati Uniti e di tante amministrazioni fa sì che ormai questo sia diventato il festival più importante sicuramente d'Italia ma probabilmente fra i più importanti d'Europa quest'anno abbiamo un qualcosa in più che ci lega proprio a questo spirito gospel americano, afroamericano che è la celebrazione dei 60 anni del famoso discorso del Lincoln Memorial del reverendo Martin Luther King abbiamo deciso come tutti gli anni troviamo qualche spunto per legarci alla tradizione quest'anno ci sembrava importante, questo è il famoso discorso di I have a dream che tanto ha significato e sta ancora significando per il mondo dei diritti civili, dell'eguaglianza, della giustizia sociale quindi nel celebrare questo discorso di cui abbiamo mutuato il titolo anche per il nostro edizione del festival abbiamo anche attivato una collaborazione di cui siamo veramente orgogliosi con la fondazione King di Atlanta e avremo un messaggio della vedova del fratello di Edward di Martin Luther King erano due reverendi, anche lui morto negli anni 60 e quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi ci sarà tempo fino al 17 gennaio per visitare la mostra dei presepi a Sansepolcro la società rionale di Porta Romana inaugurerà il proprio presepe nella chiesa di Santa Marta mi permetto innanzitutto di ricordare che quest'anno sono 800 anni dalla creazione del primo presepe al mondo quello di Greccio. È stata mia intenzione portare qui nel Consiglio regionale della Toscana la presentazione di una delle esposizioni di arte presepiale tra le più riuscite della provincia di Arezzo parlano chiaramente i numeri dello scorso anno, oltre 15.000 presenti sono certo che quest'anno verranno superate c'è una grande maestria degli artigiani nel realizzarle c'è un grande sforzo da parte dell'associazione dell'Accademia Enno Gastronomica di provvedere all'organizzazione del tutto Assolutamente sì, uno si potrebbe chiedere com'è che un'Accademia Enno Gastronomica organizza una mostra presepiale diciamo che noi come Accademia festeggiamo i nostri dieci anni di attività in quest'anno e da qualche anno ci siamo molto spostati su un discorso anche culturale e turistico da qui nasce l'idea di fare questo presepe che è una chiesa adiacente alla nostra sede che vivevamo da molto tempo che era un po' in disuso diciamo eravamo partiti per metterci un presepe basta e poi ci abbiamo fatto prendere la mano e l'abbiamo insomma riempita di presepi e quindi insomma è l'occasione anche per vivere il Natale insomma poi il presepe è una nostra tradizione Assolutamente sì, la mostra poi ha avuto un'esplosione di presenze non indifferente, sono le quattro anni che è una quarta edizione, avevamo due anni di fermo con il Covid l'anno scorso abbiamo avuto 15.000 presenze quindi sono anche numeri importanti per una mostra abbastanza giovane